Tutti possiamo dare una mano, unisciti a noi. È così che Legambiente Caltanissetta rivolge un invito per sabato 19 novembre ai volontari, ma anche a chi vuole semplicemente dare il proprio contributo per realizzare un nuovo progetto in città. Si tratta di un centro di educazione ambientale che verrà creato nelle campagne del Nisseno, in un terreno di circa 1000 metri quadrati, in cui è presente anche una casa e che è stato dato incomodato d'uso gratuito all'Associazione Ambientalista Nissena e che verrà utilizzato anche per accogliere alcuni cani vaganti. È nato da un'esigenza dei canuzzi compagni in strada perché praticamente avevamo delle problematiche per quanto riguarda la collocazione di alcuni cagnolini vaganti che abbiamo ritrovato nel territorio e quindi cercare di trovare ulteriori spazi per poter mettere in sicurezza questi cani abbandonati. Abbiamo visto le potenzialità di questo posto che anche se è abbandonato e quindi ci stiamo lavorando per renderlo fruibile ai bambini, ai centri, appunto sarà un centro di educazione ambientale, perché noi spesso tutte le stati facciamo collaborando col comune anche dei laboratori, dei centri estivi, il che ci darà la possibilità di poter usufruire questo spazio anche per questa funzione. Ovviamente Lega Ambiente è interessata ai temi ambientali, al cambiamento climatico, alla differenziata, a tutto ciò che riguarda il benessere degli animali, quindi diciamo che per noi è un elemento, un punto importante che sarà il fiore all'occhiello di Lega Ambiente e del circolo di Caltanissetta. Siccome c'è parecchio lavoro da fare, tra l'altro i recinti già dei cagnolini sono completi, le coperture sono complete, quindi già accoglie due cagnolini, uno che si chiama Tyson e uno Sirio, un pastore tedesco e un Simil Beagle, con problematiche di lesmania e roba del genere, quindi già accoglie questi due cagnolini, però c'è tanto lavoro per quanto riguarda la messa in sicurezza e la fruibilità di questo posto, quindi qualunque mano d'aiuto di volontari disposti ad aiutarci sicuramente per noi saranno i benvenuti.